Sai mamma, la cena era davvero buonissima! Oh, mi fa molto piacere Peppa, grazie! Sapete bambini, ho una bella notizia da darvi. Proprio oggi ho ricevuto una lettera da parte della vostra zia Patrizia. E chi è mamma la zia Patrizia? Io non la conosco. Ma sì, certo Peppa che la conosci. Forse in effetti l'hai vista una sola volta quando eri molto piccola, ma è la vostra zia, quella che abita a Roma. Ah sì, adesso ho capito mamma. E cosa ci ha scritto la zia? Beh, ha detto che ha molta voglia di vederci e ci ha invitati tutti quanti a casa sua. Hi hi, zia zia! Wow, che bello mamma, quindi faremo un viaggio? Esatto bambini. Domattina prenderemo il treno e partiremo tutti per Roma. Evviva, evviva, che bello! Si parte! Hi hi, treno, treno, evviva! Oh mamma, com'è bella la stazione dei treni! Ci sono veramente tantissime persone. E poi questi treni sono così grandi e così veloci! Ero sicura, bambini, che i treni vi sarebbero piaciuti. Quando è mamma che arriva il nostro treno? Beh, bambini, direi che questo è proprio il nostro frecciarossa. Sarà meglio avvicinarsi e iniziare a salire sul treno. Sì sì, evviva, evviva! Dai dai mamma, corriamo subito sul treno! Ecco bambini, saliamo da qui. Il capotreno ci sta facendo segno di salire da questa parte. Sì sì, che bello! Saliamo e saliamo subito! Evviva, che emozione! Oh mamma, com'è bello viaggiare sul treno! Questi sedili sono davvero comodissimi! Già, avete proprio ragione, bambini! Ci voleva proprio questo viaggio! Mamma, mamma, senti, hai portato il mio iPad! Così durante il viaggio posso giocare un po'! Ma sì, certo Peppa, eccolo qui! Ma dovrai giocarci col tuo fratellino George! Ok mamma! Hihi, hihi, è troppo divertente questo gioco! Uffa mamma, Peppa non mi fa giocare! Peppa non mi fa giocare! Dai George, solo un momento, finisco questa partita e poi te lo do! Su forza bambini, fate i bravi, non litigate! Panini, biscotti, bibite, coca cola... Ehi George, guarda! Stanno portando da mangiare, che bello! Oh sì, era proprio venuta fame anche a me! Prego, qui c'è da mangiare per tutti! Cosa desiderate? Panini, bibite, biscotti, salatini... Oh sì sì, io vorrei un succo e dei biscotti! Hihi, 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 io invece... Coca-Cola, Coca-Cola! George, ma cosa dici? Sei piccolo per bere la Coca-Cola! Uffi! Allora, sciucco e patatine! Hihi, 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 io invece solo del tè, grazie! Bene, eccovi serviti! Buon appetito! Questo viaggio in treno, mamma, è proprio uno spasso! Dovremmo farne più spesso! Già, hai proprio ragione, Peppa! Ehi ma, mamma, cosa sta succedendo? Oh oh, mi sa che si è fermato il treno! Gentili passeggeri, ci scusiamo per l'inconveniente! A causa di un guasto tecnico, dovremo restare fermi fino alla risoluzione del problema! Ehi, mamma, ma che significa? Dovremmo restare fermi qui sul treno finché non hanno aggiustato tutto! Eh, Peppa, temo proprio di sì! Questo guasto davvero non ci voleva! Uffa, ma io comincio a essere stanca! Quando è che arriviamo, mamma? Beh, mi sa che questa volta dovremo avere un po' di pazienza! Forse vi conviene dormire un po' finché il treno non riparte! Ma io, mamma, non ho scionno! Ehi ma, che succede? Io non vedo più nulla! Mamma! George! Dove siete? Chi ha spento la luce? Peppa, sono qui! Non preoccuparti! Credo sia semplicemente andata via la luce! Gentili passeggeri, ci scusiamo per l'inconveniente! A causa di un guasto tecnico, è saltata la luce! Mamma, ma io ho paura a stare al buio! Uffa, quand'è che ridanno la luce? Non lo so, Peppa, in effetti la cosa sta diventando piuttosto lunga! Ehi, guardate, è tornata la luce! Finalmente ci vediamo! Ehi, ma, che succede? Forse il treno sta ripartendo! Ecco, siamo ripartiti! Evviva, evviva! Oh, finalmente il viaggio sta procedendo senza più intoppi! Tra poco saremo arrivati a Roma, non è vero, mamma? Sì, Peppa, proprio così! Manca davvero poco, ormai siamo arrivati! Gentili passeggeri, vi informiamo che tra pochi minuti arriveremo alla stazione di Roma! Forza, bambini, prepariamoci per scendere! C'è la nostra fermata! Evviva, evviva! Siamo arrivati a Roma! E stiamo per incontrare la zia! Mamma, mamma, che emozione! Siamo a Roma! Ma, è bellissima! Ma tu, mamma, la vedi la zia? Io non la riconosco! Ero troppo piccola quando l'ho vista l'ultima volta! Eccola, bambini! È là, l'ho vista, l'ho vista! Ehi! Zia Patrizia, siamo qui! Oh, finalmente siete arrivati! Ciao, Peppa! Ciao, George! Ciao, mamma Pig! Mamma mia, come siete diventati grandi! Quindi, non sarei mai riuscita a riconoscervi! Spero che abbiate fatto un buon viaggio! Beh, diciamo che è stato un viaggio pieno di sorprese! Hihi, hi, hi! È proprio vero, mamma!